Tanta bella cosa a tutti ragazzi e bentornati su KPM Channel, molti di voi avranno letto le gigantesche novità che verranno introdotte il 6 dicembre con la nuova mappa Monolith, novità che stravolgono la quasi totalità del gioco, in questo video le andremo ad analizzare insieme. I punti focali di questa rivoluzione da parte di Epic Games con Monolith sono avere una mappa più piccola, avere un gioco più veloce orientato all'azione con partite più brevi e bilanciare tutti gli eroi di nuovo. Per prima cosa si parla di velocità di movimento aumentata, non ci sarà più una modalità corsa e una modalità combattimento ma un'unica velocità di movimento che a quanto pare sarà abbastanza alta. I cambiamenti maggiori però saranno sicuramente quelli al sistema di carte, tutto ciò che avete appreso finora scordatevelo. Partiamo dal danno, non ci sarà più la distinzione tra danno fisico ed energetico, ci sarà invece un danno generale uguale per tutti gli eroi senza alcuna distinzione. Questo cambiamento intaccherà ovviamente anche il sistema di armature, adesso non saranno più armatura fisica ed energetica ma armatura base e armatura abilità. L'armatura base ridurrà i danni ricevuti quando gli avversari ci colpiscono con l'attacco base, l'armatura abilità ridurrà i danni ricevuti quando gli avversari usano invece un'abilità. Questa è una cosa positiva o negativa? Non saprei dirlo, certo adesso contrastare i tiratori sarà abbastanza semplice, metti su tanta armatura base e gg. Un altro grosso cambiamento ha a che fare con la riduzione ricarica, vi piace? La utilizzate? Bene, dimenticatevela, sarà completamente eliminata dal gioco tranne che su poche abilità passive di alcune carte come ad esempio flusso mentale. Perché? Semplicemente perché a tutti i eroi verrà abbondantemente ridotto il cooldown di tutte le skill. Ad esempio Gadget invece di poter lanciare una mina ogni 15 secondi la potrà lanciare ogni 8. Rampage avrà la sua ultimate ogni 40 secondi, in pratica su Monolith se muori mentre usi Rampage sei un pirla e Greystone avrà la sua ulti disponibile ogni 80 secondi invece di ogni 120 e così via. Dimentichiamoci anche i ruoli, non si parlerà più di incantatori, combattenti e così via. Ogni eroe avrà delle caratteristiche base che lo definiranno, ad esempio Gideon risulterà a distanza, arraffica, assassino, sfuggente e assediante. Poi spiegatemi in che modo Gideon può essere assassino, ma vabbè. Cambiano anche i lumi? Adesso non si potranno spammare a manetta per la mappa perché una volta piazzato un lume partirà un cooldown abbastanza lungo e quindi si dovrà aspettare prima di poterne piazzare un altro. Allo stesso modo inoltre adesso sono soggetti alle limitazioni di vista degli eroi, quindi potranno vedere solo dove un eroe vedrebbe se è posizionato in quel particolare posto. Qui bisogna ricollegarsi a un'altra delle novità, ovvero i muri di nebbia. Spariranno le piattaforme ombra, ovvero quelle pozze che vi fanno praticamente diventare invisibili. E al loro posto ci saranno appunto questi muri di nebbia, che saranno dei veri e propri muri di nebbia che saranno posizionati all'entrata della giungla dalle lane. Insomma, dalla lane non potrai vedere dentro la giungla e dalla giungla non potrai vedere cosa succede in lane. Questi muri inoltre bloccheranno anche la visuale dei lumi. Il bilanciamento degli eroi intaccherà tantissimo tutti gli eroi a quanto pare, ad esempio possiamo fare un esempio su Greystone che è uno di quelli che hanno rilasciato. La sua ultimate non stunnerà più gli avversari facendoli saltare verso l'alto, ma cambierà perché semplicemente cosa succede? Quando Greystone muore all'ultimate attiva ci sarà un cerchio intorno a lui e in questo cerchio gli avversari saranno rallentati. Questo significa che più sono vicini a Greystone al momento della sua morte, più saranno rallentati, ma non verranno stunnati. I cambiamenti sono tantissimi, forse troppi. Prima di dare un mio giudizio, onestamente vorrei giocare almeno una decina di partite sulla mappa nuova con il nuovo sistema carte, ma onestamente non so se essere felice o disgustato. Credo che la più grande problematica sia il fatto che cambieranno troppe cose tutte insieme. Questo creerà un caos pazzesco agli inizi e prepariamoci a un bel po' di partite in confusione totale. Secondo me sarebbe stato meglio inserire, non lo so, prima la nuova mappa e dopo una settimana di ambientamento apporterà le modifiche al card system, in modo da assorbire quantomeno i cambiamenti in maniera più lenta e graduale, invece di ritrovarsi catapultati in un gioco che praticamente non è più Paragon, è un gioco completamente nuovo. Voi cosa ne pensate? Vi piacciono questi cambiamenti? Credete che il gioco stia migliorando o peggiorando? Fatemelo sapere con un commento. Intanto vi ricordo di iscrivervi alla pagina Facebook, vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi anche al canale e al gruppo Telegram. Detto questo, tante belle cose a tutti e ciao!